Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Una tragica notizia ha colpito profondamente il panorama televisivo italiano. La scomparsa improvvisa di una professionista che ha dedicato il suo impegno all'informazione, lasciando un vuoto irreparabile nei cuori dei telespettatori. La perdita di figure come quella di Ivana Ramella, notevole nel suo contributo al mondo della tv, è motivo di profonda tristezza. Ramella, ricordata come una delle prime donne ad aver dato voce al telegiornale della televisione privata italiana, ha lasciato un segno indelebile nella storia del piccolo schermo. Il suo decesso ha generato un'ondata di cordoglio sui social media, testimonianza dell'affetto e del rispetto che ha saputo conquistare nel corso della sua carriera. Come cofondatrice di Telebiella, la prima emittente televisiva privata d'Italia insieme a Giuseppe Pepposacchi, Ivana è stata un'icona professionale, in grado di trasmettere con naturalezza e precisione le notizie più rilevanti direttamente nelle case degli italiani. La sua assenza improvvisa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo rimarrà vivo nel panorama televisivo italiano. Mandiamo tutti nei commenti una preghiera o messaggio di vicinanza alla sua famiglia per questa terribile perdita. Ciao Ivana!